Dammi la possibilità di fare questo video tranquillo perché qua tutti i giorni sta piovendo, ma dico un giorno di sole, di tranquillità, no? Benvenuti in quest'altro commento alle letture della domenica, 2 giugno, Corpus Domini. Beh, questa è la processione delle processioni. Noi sappiamo che per tradizione, parliamo solo dell'Italia, sono tante, sono a volte grandiose le feste patronali, le processioni alla Vergine Maria oppure quelle delle Venerdì Santo. Molte si sono arricchite storicamente con elementi folcloristici. Diciamo che questa religiosità è diventata assai spettacolare. Ma se volessimo descrivere quella processione che dà la più grande benedizione con il corpo del Signore manifestato in uno stensorio, eh beh, siamo arrivati esattamente a quella festa. Il corpo e il sangue di Cristo sono il più grande emblema del sacrificio e della sua comunione per tutti. Ma andiamo per gradi. Il testo di Esodo ci racconta come Mosè crea questa alleanza con olocausti di Tori, di Montoni, di Giovenchi e il sangue che per tutti praticamente è un po' il principio della vita diventa la stipula dell'alleanza. Ora, come Esodo, anche gli altri quattro libri del Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, Deuteronomio, Levitico, Numeri, come anche Genesi, sono tutti un riconoscimento di un legame iscindibile col proprio Dio. Ecco, gli ebrei non hanno mai creduto nelle divinità, ma nell'essenza stessa di Dio che prende realmente contatto con l'ambito sensibile, l'ambito materiale. Di fatti il corpo del Signore sta proprio ad indicare come, non un ambito spirituale ed etereo, ma veramente la materialità di questo Dio presente nella nostra storia è sceso per noi. Così che questa alleanza scritta con le dieci parole e poi espletata con la legge diventa tutta una lode a Dio. Questo popolo si riconoscerà appartenente a Dio perché Dio ha posto un sigillo su di esso. Allora qui l'olocausto diventa il premio, la condanna per chi espone questo sacrificio. Se graditi a Dio, elargirà le sue grazie. Se non graditi a Dio perché l'uomo ha in sé il peccato, riceverà una punizione. Molto diversa è invece la posizione della lettera agli ebrei che viene utilizzata un po' come testo catechetico. Insomma è un po' un compendio della Chiesa nascente, un po' come lo è il catechismo della Chiesa cattolica. Quando si voleva parlare nei termini del dogma, del mistero di Cristo, della Chiesa, si prendeva questo testo e qualche altro. Quando si voleva spiegare la moralità della comunità, si utilizzava sempre questo testo. Per cui siamo passati dall'idea un po' del Dio, non proprio padre, ma giudice e geloso di questo popolo, al figlio di Dio che carica su di sé il peccato per dare la salvezza all'umanità. Vien da sé che è il sacrificio di Cristo, al di là del nostro merito, che ci dà la possibilità di vivere in questa unione, in questo legame verso Dio. E qua non più la forma dell'unica persona di Dio che i giudei chiamano Yahweh, ma la forma trinitaria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo rende possibile nella storia il perpetuare di questo sacramento. Questa volta il sangue non sarà quello degli animali, ma sarà quello del corpo di Cristo. Il Gesù storico, che noi riconosciamo come realmente presente, per chi nella fede si apre al Cristo Redentore e Salvatore, beh, qui diventa esaltazione dell'umanità perché è Dio che pone la sua grazia e la sua benedizione. Cristo muore una volta per risorgere e non morire mai più, perché noi, credendo in questa sua possibilità, possiamo anche noi accedere alla resurrezione e alla vita eterna. Ecco, il testo del Vangelo, domenica scorsa si è lasciato con Io sarò con voi sino alla fine del mondo. E questo ci ricorda che quella comunione eucaristica non è solamente il ricordo della Pasqua ebraica, ma è una comunione fatta di amore, fatta di un vero e proprio sacrificio. Nonostante il peccato umano, nonostante la fallibilità, l'errore, nonostante tutto quello che di orribile ci può stare in questa esistenza per colpa dell'uomo, sarò io a caricarmi di tutto per dare a voi la possibilità di credere che io, una volta morto e risorto, per chi crede avrà la vita eterna. Allora, la comunione eucaristica diventa fondamentalmente la maniera di appartenere, al di là di tutto dei nostri meriti, delle nostre possibilità, ad una grazia che è più grande di tutto quello che noi possiamo pensare o credere. Il corpo e sangue di Cristo è un'unione perfetta, perché è totalmente sbilanciata dalla parte di Dio, completamente a favore dell'uomo. L'uomo può allontanarsi, l'uomo può essere dubbioso, l'uomo può anche essere contrario allo stesso Cristo, ma lui è lì in attesa, lui aspetta, lui probabilmente ha un amore così grande, talmente tanto, infinito, che sa tutto dell'uomo. Dal baratro di ogni azione orribile e umana, Cristo può colmare con il suo amore e con la sua misericordia. Il corpo e il sangue di Cristo è la maniera di stare dinanzi al più grande dei misteri, al più grande degli amori, e dire, non sono forse degno, ma so che tu ci sei. Non sono capace di fare troppi passi in avanti, ma so che tu verrai verso di me. È Cristo che tocca l'uomo, con le specie eucaristiche del panno e del vino, addirittura nell'interno del corpo umano. Beh, signori e signore, sono stato anche fin troppo lungo, vi auguro di vivere nella maniera più profonda questo momento bellissimo della Chiesa cattolica, cristiana, che dir si voglia, e come sempre, buona domenica e buona festa del Corpus Domini.